Dove non hanno avuto successo nazionalismi e populismi sta riuscendo un piccolissimo virus. Nell'Europa Unita ogni giorno che passa risorgono all'improvviso confini e muri tra gli stati, eretti in fretta e furia dalle capitali delle vecchio continente spaventate dalla pandemia da Covid-19. Ed ha molto di simbolico in tal senso l'ultima decisione presa dalla Germania di chiudere la frontiera con la Francia, oltre che i confini con Svizzera e Austria, tentativi di fermare o perlomeno di contenere una diffusione delle coronavirus SARS-CoV-2 che a livello globale ha ormai provocato più di 6.000 morti, di cui oltre 2.000 sono proprio in Europa. Il bilancio dei contagi diventa sempre più drammatico, sono arrivati a quota 160.000 casi registrati in tutto il mondo. La Cina rimane ancora lo Stato con il più alto numero di vittime, anche se la situazione è in continuo miglioramento e sono già 11 le province del paese asiatico senza contagi. Ora è in Europa che l'epidemia si fa strada più in fretta. Solamente in Spagna, il secondo paese più colpito delle continente dopo l'Italia, ci sono stati circa 2.000 nuovi casi e un centinaio di vittime nelle giro di appena 24 ore, 7.800 gli infettati in totale e 288 i morti.